Andiamo a conoscerli Quattro manone persino a Luca Guardate la bellissima Valentina Oh mamma mia come siamo messi Luca Daniele Daniele e la mano con la cravatta Guardate qua che eleganza Mirko Allora poi abbiamo Andrea per la manona gialla di Ventimiglia E Edoardo E sono finite due sono Queste manone dopo che l'orchestra Guidata dal grandissimo maestro Mazza Ha iniziato a suonare dovrà indovinare E buttarsi velocemente sui simboli Con i quali giochiamo oggi Iniziamo a giocare con la tazzola di caffè Calendario quindi giorni mesi dell'anno Una mamma Della frutta Buonissima Casa Un cuore Il colosseo simbolo di Roma E il Duomo simbolo di Milano Due regole fondamentali ce le dice in italiano Perfetto Laura Dopo tre anni Ancora dopo tre anni Sì Allora non partite dopo che la No partite solo dopo che l'orchestra Abbia iniziato a sonare Abbia E non ostacolare l'avversario Sempre naturale Abbia Abbiate pietà Andiamo a vedere semanine dai Abbiate pietà Mi colgo Abbia Maestro è pronto? Maestro Mazza Quando vuole Fuori matto di Little Tony Si sono ammazzate due mani da sole Una prima e una dopo Il simbolo esatto era il cuore Due fuori Dove sono andati? Due fuori Purtroppo due fuori Uno che non è arrivato Mamma mia Guardate che è successo Allora Sono state eliminate La mano che proprio non è entrata nel tappeto Che è scivolata prima E la mano che Eccola vedete È finita su un simbolo sbagliato E qui sotto ovviamente Quindi è stata eliminata Due mani in un colpo solo Situazione di parità Da questa parte mi metto io davanti alla cabina Mamma mia Attenzione Due a due Maestro Mazza quando vuole Viva la mamma Edoardo Pennato Il simbolo esatto è la mamma Viva la mamma Vesce è la mano gialla Una mano gialla Eccola lì la vedete È la numero due Ed è già uscita Quindi sono due Le mani di Sinalunga E la mano superstite Di 20 miglia Ok La testa dentro ragazzi Mi raccomando Ok ci siamo Anche da questa parte La testa dentro Bene Possiamo partire? Maestro Mazza? Quando vuole Luglio di Riccardo del Turco Il calendario Era il simbolo esatto È arrivato Sul simbolo esatto Guardate 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 Cos'è accaduto Guardate Guardate Allora La prima mano Si butta sul simbolo sbagliato E la mano gialla Fa un salto Va sul calendario L'altra rimane in piedi Quindi vince La mano gialla Di 20 miglia Bravo Bravo Vai 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 Togliere la manona Complimenti 20 miglia 20 miglia Ma pensate Subito Vince è stato Veramente bravo E allora Consegniamo Alla nostra giornalista La coppa Di mezzogiorno In famiglia Complimenti Ma guardate Chi c'è qua Leonardo Il salvatore della patria Perché c'è il gioco Dello strappacoppa Amadeus Non cantare vittoria Che fai sempre Allora subito Andiamo a vedere Perché è un gioco Difficile Per essere preciso E contare fino a 30 Altrimenti 20 litri D'acqua Cadranno sulla sua testa Se lo strappacoppa Più elegante Con la cravatta Proprio Bravo Assina lunga Ti preghiamo Come sempre Per favore Il massimo silenzio In studio Grazie Grazie Mi raccomando Non andiamo a distrarre Leonardo Che deve tentare Quando vuoi Puoi premere il pulsante Iniziale Iniziale E non ce l'ha fatta Per pochissimo In anticipo Leonardo Sei stato bravo Ma In anticipo Di un secondo e un quarto Pochissimo Grazie Vatti a lasciare Grazie Leonardo E quindi Vincimiglia È il nuovo Comune Campione Eccolo lì Complimenti Consegniamo anche La medaglia Vuol dire che Torneranno tutti quanti Il prossimo weekend Pasquale Pasqua con noi E noi Consegniamo questa targa Ricordo E grazie mille Il quarto weekend Che sono stati con noi E Alex Grazie Grazie Ma io come faccio Stavamo Prosto Così dicono Ma poi E così come Dobbiamo salutare Roberta Cagliari Che cambia comune Salutiamo Sinalunga Grazie Ciao Sinalunga Ciao Sinalunga